ciao ragazzi e bentornati oggi siamo qui per una nuova puntata di quei tre consigli che mi arrivano da qualcun altro oggi la persona che da consigli non apparirà purtroppo in video ma ci ha tenuto comunque a darmi i suoi tre consigli quindi una puntata un po' diversa dal solito la persona di cui stiamo parlando è francesca di watchmojo italia quindi insomma non è qualcuno la cui voce almeno non avete sentito e in realtà anche solo nei video più recenti di ringraziamenti per il loro grande traguardo ha scelto di farsi vedere quindi potete vedere anche la sua faccia personalmente io l'ho conosciuta all'interno di una live sullo splendido soul sul canale del raccattafilm e siamo rimasti in contatto perché è qualcuno che ha un buon background culturale ed è qualcuno che può influenzarmi anche positivamente nella mia vita quindi ho scelto di coinvolgerla in questa challenge mi ha dato i suoi tre consigli mi ha dato anche delle motivazioni che farò comparire a testo mentre io parlo direttamente così il vostro cervello impazzirà per cercare di seguire sia me che parlo da una parte che il suo testo dall'altra me ne rendo conto sarà complesso ma ho piena fiducia in voi e se mi avete visto leggermente distratto è perché la mia gatta ha appena saltato dal tavolo al letto che trovate sulla mia testa anche se non lo vedete comunque sia arriviamo ai tre film consigliati il primo film che francesca ha consigliato è un film che non avevo visto ed è il mio nome e nessuno non l'avevo visto perché come sapete se avete seguito la challenge lo spaghetti western il western in genere non è mai stato il mio genere brutta ripetizione perché l'ho apprezzato beh l'ho apprezzato probabilmente per le stesse motivazioni di francesca anche se con il filtro emotivo differente perché per francesca è un film molto importante che guarda praticamente una volta all'anno ed è un film a cui è lei è legata fin da bambina un film che vedeva con suo padre quindi un film a cui ovviamente è emotivamente molto legata sapete quei rituali ciclici che nella nostra vita a un certo punto prendiamo a fare per me è leggere il piccolo principe e guardare i gunis quindi francesca se sei interessata guarda i gunis anche se sicuramente li avrei visti e quindi per lei è un film che nel tempo vedendolo rivedendolo è cambiato ciclicamente perché arrivi ad apprezzare di più e quindi arrivi ad apprezzare differentemente l'ironia di terence il del suo personaggio e quindi i momenti comici che da piccolo ti strappano sono un sorriso diventano qualcosa di più crescendo o almeno questo è quello che mi immagino sia stato per te ed è un film che sicuramente è un ottimo pezzo della storia dello spaghetti western è un film bellissimo c'è poco da fare è un ottimo spaghetti western è un film che sai intrattenere su tutto in modo ottimale perché riesce a coinvolgervi riesce a farvi sorridere grazie appunto ai momenti di comicità interna riesce a farvi riflettere grazie appunto anche alla questione pure dell'uccellino che hai citato tu stessa riesce a fare quello che deve fare un buon film di intrattenimento e non solo ragazzi quindi guardate il mio nome e nessuno perché sicuramente rappresenta un altro aspetto dello spaghetti western che personalmente io poi ho conosciuto in realtà con i film di bud spencer e terence il che lì superano il valico e vanno a finire nella commedia quasi totale e che invece qui uniscono due aspetti da una parte la commedia dall'altra la serietà dello spaghetti western e quindi è sicuramente un film molto molto valido grazie Francesca per questo primo consiglio andiamo al prossimo ossia Midnight in Paris di Woody Allen allora Woody Allen io lo amo lo sapete bene però purtroppo Midnight in Paris è uno di quei film che non mi ha mai colpito troppo probabilmente perché a differenza di Francesca queste fascinazioni da questa Parigi di un tempo non sono mai state troppo forti in me seppur ammetto che la cosa che ho sempre apprezzato di questo film sono proprio i rimandi a tutti gli artisti perché venendo dall'istituto d'arte sono tutti i nomi che ho studiato e quindi è impossibile non sorridere personalmente il mio preferito è uno di quelli che ha meno minutaggio Toluse Lutrec ma solo perché amo Toluse Lutrec alla follia comunque sia è Woody Allen quindi è un film che ovviamente è in grado di coinvolgere è un film che potrete amare alla follia se amate la poetica di Woody io semplicemente sono più dalle parti di un... che c'è Nike? io... basta Nike basta io semplicemente sono più dalle parti di un basta che funzioni quello è il Woody che preferisco ovviamente però appunto è estremamente romantico quindi è un film bello da vedere anche solo per quello è un film in cui tutti gli attori si trovano in parte riescono a essere simpatici a coinvolgerci a farci vivere la storia ed è un film che anche solo per i mille artisti che troverete letterari o pittorici che siano non potrete non sorridere se anche solo un po' li avete letti li avete apprezzati vedendo le loro opere o li avete studiati come il sottoscritto per cui ancora una volta un bel consiglio e poi è un film con la sua dinamica del tornare indietro a rivivere gli anni d'oro che ci fa riflettere poi su una cosa forse lo fa dal mio punto di vista in modo un po' troppo didascalico e troppo evidente ossia farci riflettere sulla nostalgia e su come il pensare che tutto prima era meglio sia quasi uno stato pausologico perché non è così perché poi quando vivi le cose vedi tutto il negativo e quindi ci fa anche secondo me riflettere sui ricordi e su come col senno di poi tutto nel nostro passato sembri più bello proprio perché la memoria cancella spesso le pagine più oscure e tutto diventa più affascinante e quindi le poche passate sono più affascinanti così come erano più affascinanti e più piene di gioia la nostra gioventù magari e così via fatemi sapere che ne pensate l'ultimo consiglio è un film che non avevo visto perché Midnight in Paris ovviamente l'avevo visto Sea Biscuit un mito senza tempo una biografia di un cavallo ecco le motivazioni per cui Francesca me l'ha consigliato sono motivazioni a cui spiritualmente mi sento molto vicino è un film che parla degli ultimi dei rotti un film che va ad analizzare una storia che tra l'altro è storia vera che ci parla della storia di un cavallo ed è bizzarro in effetti Fra e ci parla anche della storia del suo fantino e della storia delle persone che ruotano attorno a queste due figure attorno al cavallo prevalentemente e della nostra storia e della storia americana ma della nostra storia come esseri umani con una storia positiva una storia di rivalsa per una volta e su questo poi ci torneremo la questione importante qui è davvero la questione dei rotti perché nella vita è una di quelle cose che io spesso vivo con amarezza una di quelle cose che spesso ritrovo in alcuni libri di Polaniuk o Polaniuk la pronuncia non ho voglia di andarla a vedere in questo momento spero di averla beccata in una delle due tutti siamo rotti ognuno a suo modo alcuni però sono più rotti di altri alcuni certe volte vengono proprio stritolati dalla vita e restano lì in un binario che li può portare solo alla sconfitta solo verso un futuro che diventerà grigio e grigio e grigio fino a diventare nero magari ad un certo punto Sea Biscuit è un film che sa emozionare perché fa l'opposto perché si sa che è una storia vera ed è una storia di rotti che però diventano vincitori ed è bello cazzo per una volta che ci sia un messaggio positivo che ci faccia dire cacchio ma allora pur con i miei difetti posso andare da qualche parte posso arrivare da qualche parte lo standard non deve essere per forza la perfezione una sticella che è troppo alta e che di anno in anno cerchiamo di alzare e non la si può raggiungere ed è bello vedere che si può vincere pur essendo rotti ed anzi magari quell'essere rotti diventa proprio motivo di rivalsa di spinta sociale magari o umana o interiore per dare di più per non arrendersi per continuare a lottare e tra l'altro c'è un grande vantaggio che ha qualcuno rotto secondo me qualcuno rotto che è riuscito ormai ad abituarsi al concetto di essere rotto ed è che una persona rotta è già abituata alla merda perché se non si è rotti e si piglia una musata è una musata durissima ragazzi ma quando si è rotti ed è tutta la vita che si lotta a quel punto un'altra abbatosta può essere solo vista in chiave positiva se hai capito come figurare la tua vita se hai capito come uscire da quel binario che ti porta all'oscurità per cui Sea Biscuit è un film che può emozionare e riesce ad emozionare se avete un minimo di empatia quantomeno ed è un film che mi sento di consigliare non è un capolavoro di film ma è un gran bel film e non sono due cose che si escludono vicendevolmente perché non è tanto nella tecnica nella realizzazione perché in certe cose si vede chiaramente che Tobey Maguire non sapeva cavalcare e le inquadrature l'hanno dovute fare con roba finta ma è un film che ha il cuore e questo è qualcosa di più importante alle volte della qualità interna del film stesso che comunque non è da buttare per cui insomma grazie Francesca per i consigli spero che questa puntata così diversa se è solo la seconda quindi così diversa rispetto a quale standard non si sa bene ed è un film che sia io che Francesca vi consigliamo probabilmente per le stesse motivazioni quelle che avete visto su schermo se siete riusciti a leggere o se avete dovuto mettere in pausa per leggere questo non lo so spero Francesca di aver reso onore alle tue parole spero che questa puntata abbia coinvolto ognuno di voi e magari qualcuno di voi tra questi tre consigli abbia trovato qualcosa di interessante per cui valga la pena vedere questi film sì, non parlo mai della trama lo faccio molto poco perché la trovo quasi sempre un'informazione ridondante, inutile la potete trovare online la potete trovare sul retro di un DVD o di un Blu-ray la potete trovare su Wikipedia ruba solo minutaggio ci sono cose più belle e più importanti di cui parlare per quanto mi riguarda per cui spero un'ultima volta che questo video questo nuovo format vi possa piacere e vi possa interessare e ci si rivede qui come sempre fra una settimana con un contenuto più ciccioso come al solito per il resto la settimana la lasciamo per i let's play e per qualcos'altro intanto per ora grazie belli grazie Francesca per il consiglio e ci si vede la prossima volta e un grande ringraziamento ovviamente ai supporter i miei Patreon che mi aiutano a restare su questa barca e a continuare con il mio remetto spezzato ad andare avanti ciao belli a presto